Davanti a 25.000 spettatori nello stadio di Fort Lauderdale, il campione del mondo Lionel Messi è stato presentato ufficialmente come nuovo giocatore dell'Inter di Miami. Messi è stato accolto dai tre proprietari del club statunitense che milita nella Major League Soccer, da José George Mass e dall'ex campione inglese David Beckham. L'argentino percepirà circa 60 milioni di dollari per restare a Miami fino al 2025, venerdì l'esordio con il suo nuovo club contro i messicani del Cruz Azul nella Ligse Capa.